Ciao, ciao bella gente! Allora, come andiamo? Tutto bene? Io come vedete non sono a pesca, ma sono in casa. E sono in casa per diversi motivi, intanto perché ormai sono tre settimane che sono sempre in giro per l'Italia, per diversi motivi. Intanto perché stiamo andando contro alla stagione primaverile, che è un over the top per la nostra pesca, ma anche per i negozi e per l'azienda con cui collaboro, dove stiamo preparando tutta la stagione 2024 per quanto riguarda le varie iniziative, la scelta dei prodotti e tanti piccoli accorgimenti e iniziative che dobbiamo fare appunto per questo inizio dell'anno. Inoltre perché sto partendo per gli USA, quindi io sabato parto per gli Stati Uniti. Quindi vi faccio questo piccolo videino per raccontarvi un po' tutto quello che è successo in questi giorni, per stare un po' in compagnia e per condividere con voi tutto quello che ormai faccio da tantissimo tempo e lo racconto qua sul canale YouTube. Come vedete sto preparando un sacco di cose, mi deve ancora arrivare il mio zaino Panga Yeti che non vedo l'ora di averlo, che mi accompagnerà in questo viaggio negli Stati Uniti. Vi metterò magari una bella foto qua sul canale quando mi arriverà il Panga che mi accompagnerà per tutti questi 15 giorni. Eh sì, andrò 15 giorni. Ora vi porto a fare un giro di là. Questi 15 giorni che mi accompagneranno, cui starò in America, dove mi accompagneranno diversi amici e faremo una super pescata negli Stati Uniti questa volta in prefrega. Di solito vado sempre nel periodo di maggio-giugno, quindi quasi un inizio estate, invece quest'anno i ragazzi sono dovuti andare a marzo. Quindi ci aspetta una super 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 prefrega negli Stati Uniti. E quindi sto preparando un po' di cosette e tantissime cose che mi accompagneranno. Intanto, come ormai sapete un po' tutti perché ve ne ho parlato, perché l'avete visto su Instagram. Adesso mi accascio, ve li faccio vedere. Sono diventato testimonia al K-Tech BlueSpring, l'azienda per cui collaboro a diverso tempo. È diventata distributore di K-Tech per l'Italia, quindi ci sono tantissime belle chicchette qua a fronte per la partenza. come vedete, spinner avete in particolare, in questo periodo dell'anno in America lo spinner va veramente tanto, però anche qualche cattura rana, mi dice la mia guida. Quindi portati quindi magari una cosina per la rana, poi il classico Easy Shiner, quindi i classici sciaddoni importanti. Insomma qua di roba K-Tech me ne è arrivato un bel pacchettone e quindi devo cominciare a spacchettarla e prepararla per gli Stati Uniti. Inoltre, la novità di quest'anno sono le canne San Croix. Eccole qua dietro, San Croix, solo alcune. Domani le vado a provare in acqua. Queste qua sono alcune di quelle che mi sono fatto mandare. In questo caso c'è una mojo bus da casting e due da spinning. Poi qua sul canale vi farò un bel unboxing dove vi racconterò un po' tutto quello che ho visto in queste settimane di riunioni aziendali. Infatti, riunioni aziendali tante, dove abbiamo parlato appunto di K-Tech, dove abbiamo parlato di San Croix, dove abbiamo parlato di G-Crack, dove abbiamo parlato di Taywalk, che comunque Taywalk resterà lo stesso all'interno nel mio setup di canne assolutamente, e dove abbiamo parlato di questa stagione. Questa stagione che è cominciata con freddo, e comunque adesso è tornato il freddo, un bel freddo davvero, adesso comunque un freddo molto anomalo per l'inizio marzo e soprattutto tantissima acqua, tantissima pioggia. domani vado a pesca e non so quali sono le condizioni a cui mi troverò incontro, perché ci sono veramente delle condizioni molto particolari e di livelli estremamente alti, con acqua probabilmente torbida e comunque molto fredda per il periodo. L'anno scorso in questo periodo l'acqua era molto più calda, c'era già una temperatura intorno ai 10-12 gradi, a volte anche 14, mentre invece secondo me adesso saremo tornati verso i 9-10, quindi veramente molto freddo, questi fronti freddi primaverili sono sempre molto difficili da interpretare, puoi trovare una giornata in cui il pesce è molto attivo e puoi trovare una giornata in cui il pesce è molto più apatico e servono delle schette un pochino più piccole e delle presentazioni molto più lente. Quindi domani andremo a vedere questa ultima pescata prima della partenza negli States. Come mi preparo per gli Stati Uniti ve l'ho fatto vedere anche l'anno scorso, le varie esche che metto dentro, anzi della scatola ne avete fatto venire in mente che devo portarmi qualche hardbait, meno dell'anno scorso, l'anno scorso era un momento di hardbait molto interessante, molto walking the dog, molta galla. Secondo me quest'anno si andrà di più verso la gomma, verso gli spinner e verso i chatterbait, queste sono le indicazioni che la guida mi ha detto e sicuramente anche per i jig, ok? Qua io ho un po' di jig che mi regalano sempre i miei amici autocostruttori, oltre ai jig che utilizzo di solito per delle varie aziende come Fridonteco, come Gicac, eccetera, eccetera, ho anche qualche jig autocostruito, anche qualche spinner e chatter autocostruito che mi piacciono veramente tanto e poi testerò altri prodotti, tipo i nuovi nico che mi sono arrivati, i nuovi bustini di nico che si chiama Shakey Warm, secondo me molto molto interessanti per questo periodo dell'anno in Texas, dove i pesci sono sì molto attivi, ma anche lì se arriva un piccolo fronte freddo rischiamo di vedere i pesci un pochino rallentati. Comunque è un momento dell'anno per me molto particolare, sono abbastanza stanco, perché quest'anno appunto questo movimento legato alle nuovi prodotti è veramente molto, ma molto stancante. Voi mi direte, Quinta, sì, ma è il tuo mestiere andare a pesca, ti piace, tutti vorremmo fare il lavoro del Quinta, cioè andare a pescare, sì, è vero, però spesso comunque è un lavoro impegnativo, nel senso che fare questo lavoro non vuol dire solo andare a pesca, vuol dire anche passare tanto tempo per fare la scelta dei prodotti, perché queste canne poi se scelgo i modelli sbagliati l'azienda mi dice come mai non hai scelto il modello che si vende di più, quindi è normale che ci siano tanti piccoli accorgimenti da fare e questo mi porta via veramente moltissimo tempo, un tempo bello, un tempo che mi diverte, attenzione, mi piace fare la scelta dei prodotti, mi piace vedere le aziende americano-giapponesi che creano prodotti magari più per il loro mondo e noi dobbiamo adattarci a questo mondo, quindi noi dobbiamo praticamente trovare quelle tipologie di modelli sia di esche che di canne che vanno bene per il nostro mondo e per le nostre acque, che non sono assolutamente simili a quelle magari americane, che sono molto più grandi, dove i pesci sono molto più presenti, dove c'è molta più competizione alimentare, il pescatore americano deve fare dei lanci molto lunghi, utilizzare delle canne magari un pochino più toste, mentre invece noi utilizziamo canne un pochino più light, e quindi per zone che per noi sono sicuramente diverse. Noi siamo sicuramente più vicini ai giapponesi, però non sempre alcune canne giapponesi vanno bene per le nostre acque, perché noi abbiamo alcune acque tipo Nord Italia, acque trasparente, acqua profonda, molto trasparenti, quindi pescare con canne giapponese, poi magari andiamo in Sardegna, poi andiamo a flippare ai leghi di manto, e abbiamo bisogno di canne toste come San Croix appunto, o comunque diverse dalle altre. Quindi sono due mesi veramente impegnativi, tantissimo lavoro, però è estremamente divertente e veramente molto appagante riuscire ad avere sotto mano questi prodotti molto belli, sia le canne che poi le esche, e cercare di fare delle scelte per tutti noi pescatori, per divertirci, e soprattutto per stare vicino a tutti i consigli che voi mi chiedete tutti i giorni. Se ci sono tanti consigli da darvi, io devo essere preparato al 100%, quindi questi mesi li investo anche su questo, sulla mia preparazione personale e professionale, di modo che ogni volta che vi ho fatto una domanda, io cerco di essere il più presente possibile e più disponibile presente per voi, ma magari per darvi un consiglio su una tipologia di canna, su una tipologia di filo, su una tipologia di esca, particolare per questo periodo dell'anno. Quindi, questo piccolo video, questo piccolo vlog, vi volevo raccontare il motivo per cui ho pubblicato qualche video in meno, e qualche storia anche in meno, sul mio profilo Instagram, dove mi seguite veramente in tanti, e vi ricordo di seguirmi anche per questo viaggio negli Stati Uniti, che secondo me sarà veramente top, per due motivi. Uno, perché sarà la prefrega, quindi ci aspettiamo dei pesci oversize dei Big Bus, e poi perché fra 15 giorni andrò al Bus Master Classic, quindi andrò a visitare il Bus Master Classic e a visitare la gara di pesca più importante del mondo, appunto, dove tutti i più forti pescatori si sfidano, e sarò lì a vedere loro pescare, sarò lì a vedere la fiera, perché ci sarà una fiera appoggiata a questa gara importantissima, quindi il bello dell'America è anche questo, cioè abbiamo questa gara super importante in America, dove di fianco fanno una fiera, un super stage fantastico, devo andare a vedere le novità, ci sarà una novità a San Croix, occhio perché arriverà molto probabilmente una canna nuova marchiata a San Croix, e tante piccole novità di American Bait World, Net Bait in particolare, il Bait Fuel, tutte le nuove esca Net Bait che sono all'interno di Bait Fuel, quindi io fra due settimane, quindi non questa settimana, io parto sabato, quindi fino al 16-17 pescherò negli Stati Uniti, mentre invece poi la settimana dopo, cioè il 23-25, quei giorni lì ci sarà la gara, e io sarò là a cercare di farvi un super reportage, qua dal canale YouTube e sui profili social. Lungo, però bellissimo, non vedo l'ora, anche perché è la prima volta che vado al Classica, e quindi sono super emozionato, e cercherò di darvi un reportage più fico possibile, e più divertente possibile. Sono appena tornato anche dalla fiera di Napoli, veramente una super fiera, mi sono proprio divertito, è stata una location nuova, io l'adoro, ho visto anche ragazzi nuovi, ho visto anche tante cose nuove, che non avevo visto da tempo, e quindi questa cosa qua mi piace veramente tantissimo, lo adoro, di incontrare pescatori nuovi, di rivedere anche ragazzi che non vedevo da tantissimo tempo, giù a Napoli, veramente molto bello, intanto io mi siedo qua, di fianco al mio pacchettone K-Tech, che mi è arrivato nei giorni scorsi, così magari proviamo anche un pochino delle esche, è stata una fiera a Napoli, veramente bella, molto incentrata sotto il punto di vista marino, però fa lo stesso, mi sono veramente divertito tanto, c'era poco per il bus fishing, ma c'erano tanti pescatori di bus, c'era poco in fiera per il bus, ma di pescatori ce n'erano veramente tanti, questa è una cosa che mi ha fatto veramente molto piacere, spero che questa fiera qua si rifaccia anche il prossimo anno, perché una fiera al sud è veramente divertente, e ci vuole per tutti i ragazzi che ti seguono, e ci seguono il bus fishing ogni anno. Bene, visto che sono davanti alle esche, mi chiedete sempre esche, quinta l'esca, quinta l'esca, come va l'esca, qual è l'esca che utilizzerai nei prossimi giorni, guardate domani sicuramente spinner, spinner, faremo una bella giratina, eccoli qua, una bella giratina con gli spinner bait, questi spinner nuovi della K-Tech che sono usciti l'anno scorso, che secondo me sono molto belli per le acque americane, e per le acque con Big Bus, dove non c'è bisogno di molti fronzoli, ma c'è bisogno di catturare pesce, e che soprattutto non si aprono, non si rompono, nelle nostre acque quando abbiamo a che fare con dei pesci veramente importanti, quindi questo sarà uno spinner che utilizzerò probabilmente domani, questo bianco palla, con, se si vede bene, anche se ha un po' di riflesso, è un po' di bruciato in giro, anche perché sto facendo un po' una ripresa volante, questo K-Tech molto bianco, con spinner della K-Tech molto bianco, T-Bone, oppure il classico White Chart, che in questo periodo dell'anno funziona, veramente, veramente molto bene. Un'altra esca che domani secondo me mi può aiutare, c'è un po' di pesce apatico, ci sono un grubbettino, che finalmente è tornato nelle mie mani, un bel grubbettino che si chiama Flapper Grub, veramente interessante, colore giallo, perché comunque ci sono giornate molto nuvolose, e acqua abbastanza torbide, e un'altra esce che mi è piaciuta veramente tanto, è il Crazy Flapper, questo Crazy Flapper che domani probabilmente utilizzerò a Texas, oppure utilizzerò come trailer per i jig, questa è la misura 4'4", quindi un bel, un bel gamberotto di quelli importanti e impegnativi, che sto mettendo via per la giornata di ieri. Un'altra esce che mi è piaciuta veramente molto, è il Beaver, il Paddling Beaver, io adoro i Beaver, e questo è uno dei Beaver della Katex, secondo me, che vanno veramente meglio, e sono veramente molto interessanti. Questi sicuramente sono esce che utilizzerò domani, ci sarà anche uno spinnerbait, scusate, un jig, sono abbastanza stanchino, sicuramente un jig, e poi proverò le St. Croix nuove, quindi le nuove canne che mi sono arrivate, domani ne monterò, e vedrò nei prossimi giorni, magari di farvi qualche piccolo videino, dedicato anche alle canne. Quindi, finito questo breve video sul canale YouTube, e volevo raccontarvi del motivo per cui, nelle ultime settimane, i video sono andati un po' su e giù, e perché sono un po' sparito anche, dalle storie di Instagram, da adesso ripartiamo a tutta forza, non vedo l'ora, e noi, il prossimo video, ci rivediamo probabilmente, negli Stati Uniti. Ciao amici, buona serata, e in bocca al Bass, come sempre, ciao a tutti!